Vittoria di fondamentale importanza per la capolista Bra che passa 1-0 ad Albertas di Gozzano e allunga più 4 in classifica su Chieri e Lavagnese compiendo un passo forse decisivo verso la conquista della Serie C2. Decide il gol al 24esimo del primo tempo. Punizione dalla destra di Baldi, Castagnone non perfetto nella circostanza, tocca e manda sulla traversa, sulla ribattuta, sulla palla vacante, di testa Giacomoni impatta e trova il gol decisivo. La risposta del Gozzano al 39esimo, calcio di punizione di Chimenti da posizione defilata direttamente in porta, Maio controlla la sfera che si perde alta non di molto. Nella ripresa 60 secondi e di Rosso Blu si rendono pericolosi, cross dalla destra di Cabrini, controllo e tiro di Gambirasio respinto di pugni da Maio. L'occasionissima arriva al 36esimo, palla dentro di Sampo, spizzata di Ligori e girata di Bosis che termina però fuori di un soffio. Al 38esimo, altra colossale occasione per il Rosso Blu, corner dalla destra di Cabrini, Ligori ottimamente posizionato nel cuore dell'area, di testa però mette a lato fallendo dunque il pallone dell'1-1. Prima sconfitta in eterna della gestione Mango e domenica alle 15 il derby con Iverbagna.